John Borno ragazzi, John Borno, il colpo di scena arriva all'improvviso e direttamente da Sport Italia, poi vedremo se sarà vero Sport Italia che dà l'esclusiva. Dopo giorni di trattativa per Caio Giorghe si era parlato di Napoli, si era parlato di Milan, si era parlato di Benfica, tutti dicevano che il Milan aveva già l'accordo con il giocatore. Che il Benfica invece avesse l'accordo con la società, con il Santos, all'improvviso di punto in bianco spunta la Juventus, pare che la Juventus abbia un accordo totale con Caio Giorghe. Spero si pronunci così, il brasiliano, l'attaccante del Santos, il nuovo Neymar, ovviamente essendo un attaccante brasiliano del Santos non si può che parlare di nuovo Neymar su tutti i giornali. Fatto sta che Sport Italia lo dà praticamente come fatto, io non ve ne parlerò come fatto perché al momento è un'esclusiva di Sport Italia, è una voce e andremo ovviamente a parlarne poi per gradi, andremo per gradi. Però fate attenzione perché la Juventus il primo passo lo ha fatto. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un attaccante bravo, molto molto giovane, molto molto forte e io non sono uno di quelli che dice una volta era forte e un'altra non era forte, sarebbe stato forte se l'avesse preso il Napoli, sarebbe stato forte se l'avesse preso il Milan, sarà forte qualora lo riuscisse a prendere la Juventus, se la Juventus non lo prende sarà comunque forte, ok? Sulla carta, sulla carta, su quello che sta facendo, per quello che sta facendo in Brasile. Poi il calcio europeo, il calcio vero è un'altra cosa, poi il mondo del calcio qui è un'altra cosa, quindi qui parliamo di altro. Però al momento l'esclusiva di Sport Italia è che Caglio Giorghe diventerà probabilmente un nuovo giocatore della Juventus. Si parla di un accordo totale, un accordo totale vuol dire un accordo che trova il parere positivo del giocatore e della società, quindi vuol dire che è un accordo che metterà d'accordo, scusate la ripetizione, che renderà felici praticamente tutti. E la Juventus fa un acquisto che forse da una parte, farebbe un acquisto che forse da una parte ci fa capire anche una cosa, che probabilmente Ronaldo non andrà via. Perché negli ultimi giorni si era parlato della possibilità della Juventus magari di buttarsi sui cardi, di buttarsi su attaccanti un po' più completi, un po' più esperti, un po' più forti. E che potevano ovviamente arrivare qualora partisse Ronaldo. Si era parlato ad esempio di Gabriel Jesus, ne parleremo domani nella zona caffè, ad esempio di Gabriel Jesus, un altro brasiliano. Caglio Giorghe è il calciatore che arriva per crescere. Non è il calciatore che arriva per essere super titolare, è un altro Gabriel Jesus, un altro che arriva dal campionato brasiliano, un altro che deve dimostrare tanto. Poi Jesus aveva dimostrato tanto ai primi anni del City, adesso ad esempio è finito indietro nelle gerarchie. Quindi anche lui secondo me magari era un giocatore che poteva anche arrivare in qualche modo alla Juventus, un colpo al cerchio, una alla botte. Però sono tutte trattative che si sarebbero forse concretizzate con la partenza di Ronaldo. Se la Juventus riesce a convincere Cristiano Ronaldo ad abbassarsi l'ingaggio, oggi leggevo, domani ve ne parlerò nel dettaglio, alle ore 12 tra l'altro, o alle 20, ora ci penso. Comunque cercherò di portarvi sempre i video alle 12.30 e alle 20, ora questo è un'ultima ora, quindi le breaking news ve le porto magari un po' a sprazzi quando riesco. Però quando appunto voglio fare i video fissi 12.30 e ore 20, mettete sempre la sveglia. Che vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che domani ve ne parlerò, ma diciamo che ad oggi la Juventus, se tiene Ronaldo, pare che Ronaldo gli verrà offerto un contratto che non sarà quello di 31 milioni l'anno, ma un rinnovo. Quindi Ronaldo farà più anni alla Juventus, però ne prenderà 20 l'anno, quindi sarà un risparmio di 11 milioni. Io non so se il giocatore accetterà, perché io credo che in generale lui potrebbe tranquillamente andare in qualunque campionato, anche esotico, a prendere fior di milioni. Certo che rimanere competitivo non penso che gli dispiacerebbe, che rimanere un calciatore valido, titolare, attaccante e punta della Juventus, Comunque percependo 21, scusate, non più 31 milioni di euro, non penso che sinceramente gli faccia così schifo. E poi davanti c'è Di Bala, che comunque Di Bala, ricordiamolo, è un pallino fisso di Massimiliano Allegri. Poi davanti c'è Morata, e anche Morata con Allegri ha trovato le migliori fortune, Morata rimarrà, Morata è stato rinnovato il prestito, eccetera. Ora, Caio Giorghe, che secondo Sport Italia dovrebbe arrivare, potrebbe essere la ciliegina sulla torta, quel giocatore che magari non ha responsabilità, quel giocatore che magari non ha il peso della maglia, perché magari, ne so, un Ronaldo, un Di Bala, ma anche un Morata, sotto questo punto di vista, anche per la spesa che la Juventus dovrebbe fare, anche per il ruolo importante su cui la Juventus lo sta investendo, ha il peso della maglia. Un Caio Giorghe non avrebbe il peso della maglia, quindi questo sarebbe un lato positivo. Avrebbe quella possibilità, e Allegri dà sempre quella possibilità, di crescita importante. Perché comunque, guardate, guardate Di Bala. Di Bala quando è arrivato la Juventus per 40 milioni, che erano tantissimi al tempo dal Palermo, e nessuno puntava su Di Bala, e tutti abbiamo detto, ma che cazzo fa la Juventus, ma perché buttare 40 milioni per Di Bala, invece guardate dove è arrivato. Di Bala fa stagioni alti e bassi, alti e bassi, e comunque vale sempre più della cifra che è stata spesa. Ecco, Di Bala ha avuto la possibilità di integrarsi tranquillamente nel mondo Juventus, perché, se non sbaglio proprio Allegri c'era sulla panchia della Juventus, forse era proprio il primo Allegri, lo dosò proprio con il contagocce. E probabilmente, qualora la Juventus dovesse arrivare a prendere Caio Giorghe, questo farà con l'attaccante brasiliano. Che attaccante è? Innanzitutto è un attaccante che mi incuriosisce, è particolare. Perché ho visto qualche video, poi dai video si giudica poco. Ragazzi, non è che il Santos io lo segua a 360 gradi. Però è un giocatore che, da quello che vedo, spazia su tutto il fronte offensivo. Innanzitutto che puoi utilizzarlo praticamente in qualunque ruolo dell'attacco. E questo sarà molto importante per i bianconeri, perché da quello che vedo, e da come vedo che stiamo avendo la Juventus, poi di là c'è Chiesa, c'è Kuruseschi, c'è Bernardeschi, bisognerà capire se magari partirà Bernardeschi, se rimarrà, eccetera. Comunque un jolly gli serviva. E Caio Giorghe potrebbe diventare, per esempio, Caio Giolli. Cioè, un jolly per uno che è battuta di merda. Uno di quelli che potrebbe giocare praticamente in ogni zona del campo. Questa cosa, secondo me, non è per niente da sottovalutare. Sarebbe fondamentale per i bianconeri avere un giocatore che puoi metterlo ovunque. Dall'altra parte, qualora questa voce esclusiva, come la definisce Sport Italia, di Sport Italia fosse vera, il Milan, secondo me, sarebbe parecchio beffato. Perché Caio Giorghe era il calciatore perfetto. Sarebbe stato il calciatore perfetto per il Milan. Cioè, quel giocatore che non chiede tanto, che non pretende tanto, che non vuole giocare in modo drastico, ma che ti riesce appunto a dare magari quel qualcosa in più alla manovra offensiva del Milan. Perché il Milan, ad eccezione degli attaccanti, dei due punteri, Giroud e Ibrahimovic, che sono assolutamente completi. Da una parte Ciarrebic, dall'altra Selemeker, probabilmente. O Leao, o Aughe. Comunque Selemeker va bene. Però, insomma, secondo me, un giocatore come Caio Giorghe, sette esplode tra le mani. Tra l'altro, un giocatore brasiliano, e lo conosciamo, il Milan, ha spesso avuto la possibilità di vedersi esplodere tra le mani i brasiliani. La Milano Rosso-Nera è proprio la patria del calcio in Brasile. Ecco, se tu c'hai Caio Giorghe e ti esplode tra le mani, è la possibilità di avere un'ala pazzesca, un'ala che ti fa la differenza, un'attaccante che ti cambia le partite da così a così. Poi, stiamo parlando di Fuffa, c'era anche il Benfica, poteva farlo crescere. C'è stato anche il Napoli, sebbene sul Napoli mi riservo qualche dubbio, perché il Napoli ha talmente tante punte che potrebbe fare una squadra di punte, punte attaccanti tra Osima, Impetagna, Mertens, Politano, Lozzano, Insigne, Iuna, Iunes, Unas e tutti questi qua, insomma, potrebbe veramente fare una squadra di punte. Fatto sta che ad oggi, per quello che dice Sport Italia, clamorosa beffa per il Milan, la Juventus avrebbe l'accordo totale con Caio Giorghe. Ne parleremo, ne parleremo, cercheremo di capire, vedremo quello che sarà. Iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi like, io vi ringrazio. Buonasera dall'alene come sempre, ci vediamo al prossimo video.